Ed eccoci qua ancora con un altro chain look. Oggi facciamo il chain look numero 7. Il chain look numero 7 è molto semplice, una tecnica davvero facile e rapida da eseguire. Sono semplicemente due movimenti. Allora si parte, come sempre, guardia sinistra al comando, si esegue il dintan sinistro, ci si allunga il dintan sinistro e si colpisce con il doppio taglio. Il doppio taglio consiste nel chain mot sinistro e nel chain bone destro. E' lo stesso che facciamo quando ci giriamo nel koi quen, quando facciamo la rotazione con i doppi tagli. Quindi abbiamo il chain mot sinistro e il chain bone destro. Si avanza in chumbintan con la gamba destra e si colpisce con il gomito e il taglio sotto il gomito. Il taglio sotto il gomito è sempre il chain bone, il taglio numero 4. Il gomito che colpisce è il gomito numero 6, chou sau. Ok? Quindi ripetiamo. Bene. Posizione di guardia. Ci si allunga dintan sinistro, doppio taglio. Hai chain, chain mot, chain bone. Si avanza chumbintan gamba destra e si esegue chou sau con chain bone. Bene. Spero abbiate compreso anche questo chain look. Provatelo, è facile. Lo lavoreremo anche questo qua a lezione, così potete allenarlo meglio e poi mandarmi anche un video per vedere se siete riusciti a impararlo. Ciao a tutti, e a presto.